Donne che vogliono essere libere di non portare il vero islamico e che per questo vengono picchiate, abusate, arrestate e persino uccise. Dietro alcune azioni terroristiche, come le sparatorie nei pressi delle ambasciate israeliane a Stoccolma e Copenhagen, pare ci sia il coinvolgimento dell'Iran che utilizzerebbe bande criminali del luogo. Altri allarmi dell'intelligence segnalano l'aumento dei tentativi di assassino finanziati a Teheran verso ebrei e critici del regime. Da tempo critichiamo la brutalità della Repubblica Islamica dell'Iran verso le donne. Donne che vogliono essere libere di non portare il vero islamico e che per questo vengono picchiate, abusate, arrestate e persino uccise. Dobbiamo immaginare che futuro vogliamo. In Europa promuovete l'immagine di una donna con il velo islamico, lo stesso velo che quelle donne coraggiose combattono tutti i giorni. Dobbiamo comunicare che l'Europa supporta le donne libere e non oppresse, oppresse come le donne in Iran e purtroppo, e concludo, anche in tante comunità musulmane nelle nostre città. Grazie.